Allora, l'asilo Sacconi è un asilo che ha avuto quest'anno, da quello che ho potuto capire, un boom di iscrizioni, è vero? Sì, abbiamo triplicato quasi le iscrizioni, quindi significa che abbiamo lavorato abbastanza bene per farci un nome e quindi per incentivare i genitori a venire in asilo e quindi a sceglierci. Vi siete organizzati anche per quella che sarà la proposta per questi bambini che frequentano quest'anno l'asilo? Sì, noi abbiamo già consegnato per esempio un opuscolo con tutte le informazioni per dedicate ai genitori e quindi illustra anche il progetto didattico che è basato appunto sull'albero e quindi sui vari mesi come si svilupperà il progetto. L'obiettivo primario che volete raggiungere qual è? La stimolazione dei bambini e quindi far diventare bambini felici di essere stimolati attraverso il gioco. E tra scuola, asilo e famiglia c'è un buon rapporto? Sì, l'anno scorso abbiamo creato un rapporto ottimo con le famiglie, appunto sono i nostri clienti, i nostri utenti che ci hanno fatto la pubblicità e quindi hanno incentivato anche gli altri genitori ad iscriversi. Quindi questo risultato positivo vi spinge a migliorare sempre di più la proposta educativa da mettere in campo? Sempre, sempre, noi spingiamo sempre al massimo e cerchiamo di, io dico sempre alle mie ragazze, di puntare in alto, di pensare in grande per far uscire comunque cose abbastanza piacevoli.